Sospendere tutti gli esperimenti che si svolgono nei laboratori sotterranei del Gran Sasso che utilizzano sostanze pericolose e chiedere a Governo e Regione le risorse necessarie per mettere in sicurezza il sistema idrico del Gran Sasso. Sono alcune delle richieste votate stamattina dall'Assemblea dei Sindaci convocata in provincia per tornare a parlare di acqua e della manifestazione che si terrà sabato prossimo a Teramo. Abbiamo sollecitato Governo e Regione Abruzzo sia nel reperimento delle risorse necessarie per la messa in sicurezza di tutto il sistema idrico del Gran Sasso sia nella predisposizione degli elaborati progettuali delle soluzioni tecniche necessarie per appunto eliminare ogni rischio di interferenza tra il sistema delle adduzioni e conduzioni dell'acqua con i laboratori del Gran Sasso e con le canne autostradali della 24. Lei ha chiesto anche l'interruzione dell'esperimento? Sì, diciamo accanto a questa richiesta principale poi c'è la sospensione di quegli esperimenti che utilizzano sostanze pericolose proprio in ragione dell'accertata necessità di un'ulteriore messa in sicurezza del sistema acquifero. Messa quindi sospensione di questi esperimenti e rimozione di quel materiale pericoloso, stoccato e non immediatamente utilizzato per gli esperimenti in altro sito. L'Assemblea dei Sindaci poi ha ritenuto di avanzare sì queste proposte ma di decidere già un ulteriore passaggio e cioè che se non dovessero essere soddisfatte le nostre richieste di agire anche in sede giudiziale. C'è stata anche una richiesta ai sindaci da parte dell'osservatorio indipendente sull'acqua di partecipare alla manifestazione che ci sarà a Teramo sabato? Tanti anni fa la battaglia contro il terzo traforo fu vinta per l'accordo e la sinergia tra le istituzioni e il territorio, le associazioni, i cittadini e credo che questa battaglia sarà vinta allo stesso modo per cui io parteciperò e spero che tutti i sindaci parteciperanno sabato.